I conti li avete fatti? Sì, li abbiamo fatti. Per cui è un raddoppio almeno? Assolutamente sì, a budget abbiamo messo che per il 2022 le spese inerenti all'energia elettrica e al gas monteranno tra i 160 e i 200 mila euro a fronte dei 112 mila euro circa del 2021 e dei 68 mila euro del 2020. Cioè rispetto al 2020 significa più del doppio? Tre volte tanto, da 68 mila a 6-12-18 circa tre volte tanto, come si fa? Dobbiamo essere virtuosi e purtroppo queste spese erodono il budget, quindi gli investimenti che volevamo fare per l'abbellimento del club, per la ristrutturazione, per il mantenimento anche ordinario del club, devono essere guardati con grande attenzione.